Amici e amici di RosetoSharks.tv siamo oggi con Marco Verrigni, direttore sportivo della Modus FM Roseto. Marco, dopo la sconfitta di domenica contro una mancata agrigento, com'è l'umore in società, com'è l'umore in squadra? L'umore in squadra sicuramente non è alle stelle perché è vero sì che giocavamo contro la squadra a mazza campionato, però è anche vero che abbiamo fatto una prestazione di pessima qualità, si poteva sicuramente giocare meglio, certo non era quella la partita che dovevamo vincere a tutti i costi, però è anche vero che questo tipo di prestazione non facilita sicuramente l'umore. A livello societario voglio ricordare un episodio che abbiamo fatto già una smentita agli organi di stampa, si è verificato che un sito rosetano internet ha praticamente annunciato che il lunedì successivo a questa partita ci sono stati problemi societari riguardo a una riunione dove si era esasperato il tutto, che erano volati insulti, allontanamenti dirigenziali, cosa che smentisco così come ha fatto il Presidente con un comunicato categoricamente, tra l'altro sono stato chiamato in ballo anch'io che ero presente a questa riunione mentre io ero comodamente seduto in pizzeria per mangiare la mia pizza dalla domenica sera, quindi voglio dire queste opere non ce l'ho con il giornalista che tra l'altro è anche un amico, però sicuramente prima, la colpa che do a questo giornalista è che prima di scrivere certe cose, devi essere certo della notizia, della fonte e della notizia, poteva benissimo chiamare il sottoscritto e chiedere se aveva avuto un'informazione, io come faccio spesso gli avrei detto se era vero o no questa situazione e secondo lui si era verificata. Cambiamo argomento con gli obiettivi prefissati dalla società, dello staff tecnico di inizio stagione, siamo in linea, quali sono i tuoi personali obiettivi a quattro giornate dal termine del campionato? A quattro giornate dal termine del campionato abbiamo una salvezza pressoché virtuale, chiamiamola così perché comunque Firenze dovrebbe vincere quattro partite e noi dovremmo perderne quattro, quindi mi sembra alquanto improbabile. Diciamo che l'obiettivo primario, che era quello prefisso dalla società e dal sottoscritto, dal staff tecnico, da tutti, con la salvezza è già stato ottenuto. A quattro giornate alla fine abbiamo ancora la possibilità di agganciare la classifica a quella che conta, cioè il treno dei play-off, quindi io sono più che soddisfatto di questa stagione, voglio ricordare che a noi mancano due punti per l'esclusione del campionato di Lucca, quindi come si dice in gergo sportivo c'è qualche società di calcio che dice 31 sul campo, io dico 26 sul campo e non 24, quindi se avevamo questi due punti in più sicuramente eravamo già quasi virtualmente dentro al treno dei play-off. Adesso mancano quattro partite, potrebbero abbastarne due di vittorie, solo le due casalinche, potrebbe magari occorrere una vittoria esterna oltre a queste due. Possiamo vincere anche quattro, possiamo perdere quattro, comunque siamo agganciati a questo treno, vogliamo sognare ancora, però ribadisco che soprattutto dal sottoscritto non è mai uscita una cosa diversa da quella. Obiettivo primario salvezza, obiettivo secondario a salvezza acquisita, proviamo ad agganciare il treno dei play-off. Ultima battuta, domenica gara importantissima di nuovo al Palamaggetti contro la Remer Treviglio che ci sorpassa di quattro punti, all'andata ci fu una vittoriosa, una grande vittoria esterna per gli Sharks, domenica per riprendere questa marcia positiva servirà non solo tutto l'apporto del Palamaggetti ma anche di tutti gli Sharks per, come dici tu, continuare questo sogno. Sì, adesso viene Treviglio che tra l'altro è in un ottimo stato di forma, noi lì facemmo una partita molto strana, andiamo sotto anche di 20 punti nei primi due quarti, facemmo una gran rimonta e addirittura vincemmo, se non mi sbaglio, di 18-15. Quindi comunque è una partita importantissima, sempre in ottica di quell'obiettivo che ci siamo prefissi adesso. La squadra deve cancellare e resettare immediatamente la partita precedente e quella di Chieti e pensare e concentrarsi per tutta la settimana solo a questa partita che è di importanza vitale. Ringraziamo Marco Verrini, il direttore sportivo degli Sharks, ricordandovi l'appuntamento per domenica 30 marzo alle ore 18 quando al Palamaggetti andranno in scena, andranno in scena la gara tra gli Sharks e la Remer Treviglio.